il progetto saga rientra in una progettualità più ampia che riguarda la società italiana di leadership manager di medicina e la sim che all'interno del suo sistema di gestione per la qualità iso 9000 ha identificato quattro processi core che sono la gestione congressi convegni la gestione dell'editoria scientifica la gestione di elementi informativi è un processo specifico relativa alla progettazione sviluppo dei progetti di ricerca organizzativa all'interno di questo ultimo processo rientra il progetto di self assessment per la gomina degli allestimenti degli antivastici che ha quattro tematiche obiettivi quattro obiettivi principali che sono quello di applicare uno strumento di autovalutazione a livello regionale in merito agli allestimenti elaborare dei dati puntuali delle singole aziende partecipanti per identificare le aree prioritarie di miglioramento specifiche dell'organizzazione sanitaria e quello di elaborare i dati complessivi a livello di regione per identificare le tematiche prioritarie sulle quali le aziende possono lavorare insieme per efficientare e ottimizzare anche gli sforzi del miglioramento. Un altro ambito di valutazione e di approfondimento invece è quello relativo al dimensionamento delle produzioni e dei consumi delle farmaci antiblastici elemento estremamente rilevante per fornire indicazioni a livello regionale a chi si occupa della programmazione per efficientare i processi e efficientare quindi la gestione organizzativa delle singole aziende. Per la realizzazione del progetto sono stati identificati e definiti due team, un team di progetto di sim con la partecipazione di direttori generali di direzioni sanitarie e direttori di farmacia e delle strutture di allestimento dei farmaci antiblastici, quindi un team multiprofessionale che ha definito quali fossero le raccomandazioni identificate da tenervi conto sia quindi per la valutazione dell'aderenza alle norme di buona operazione che quegli ambiti molto importanti in termini di valutazione delle produzioni dei consumi che sono già stati trattati e considerati in altri ambiti regionali che sono stati già negli anni interessati da progetti e processi di centralizzazione degli antiblastici. Oltre questo team di governance di progetto sim poi nell'applicazione puntuale a livello regionale è stato coinvolto in progetto di regione in termini di governance a livello centrale con la direzione regionale welfare e un suo referente regionale oltre a un direttore di una delle aziende sanitarie che ha fatto un po' la capofila per il progetto all'interno del contesto della regione Umbria in caso specifico. Ovviamente nella parte poi operativa sono stati interessati oltre ai direttori generali delle singole aziende ospedaliere e territoriali, quindi delle ASL, anche i direttori delle farmacie e il personale delle unità di centralizzazione degli antiblastici per quanto riguarda le autovalutazioni e la raccolta dei dati puntuali della singola realtà. L'animerito ai partner di progetto, naturalmente Sim che è la società scientifica di riferimento e Over che è la società che gestisce la parte di schiattiva organizzativa e gestionale della Sim, è stato interessato allo studio MF per quanto riguarda la parte metodologica e Roche come partner di progetto nella logica sempre più pressante e importante del rapporto pubblico-privato secondo i principi della dichiarazione di Helsinki che vedono la health in all policies come il principio fondamentale della salute in tutte le politiche delle organizzazioni pubbliche e private che si occupano di salute. E ovviamente nell'ambito del progetto in regione Umbria il committente e quindi la regione stessa che è stata non solo committente ma anche promodrice dell'iniziativa a livello regionale. Le aziende interessate nell'ambito regionale sono state le due ASL e le due aziende ospedaliere l'università di Perugia e l'azienda ospedaliera di Termi. Le modalità di esecuzione del progetto sono state fondate sull'applicazione di un metodo che è stato tradotto anche operativamente in uno strumento di supporto alla raccolta dell'informazione che è un semplice foglio Excel da un punto di vista tecnico un po' più evoluto da un punto di vista applicativo che ha ripreso i vari ambiti, i vari elementi delle nuove e di buona preparazione all'ispetto a ciascuno dei quali i gruppi di lavoro hanno valutato con dei punteggi da 1 a 4 quindi 1 non applicazione di quel requisito a 4 applicazione sistematica del requisito in modo tale che ogni ambito che riguarda non solo all'allestimento ma anche processi di supporto quali la gestione della formazione, la gestione delle apparecchiature e altre sulla gestione anche proprio degli ambienti degli allestimenti, una valutazione puntuale in merito all'aderenza o meno di quel requisito. Per ogni ambito sono stati poi definiti quando necessario dei piani di mitigazione del rischio o di miglioramento dei gruppi di lavoro. Il documento che è stato prodotto ha dato poi una rappresentazione complessiva dei risultati. Il progetto ha avuto 5 fasi di sviluppo, la prima fase, quella di pianificazione delle attività con coinvolgimento delle direzioni e ovviamente non solo delle direzioni generali delle aziende ma anche specifiche delle direzioni delle farmacie e del personale interessato nell'alcolto dei dati. Le fasi successive hanno previsto poi l'applicazione dell'autovolutazione con due momenti, uno plenario diciamo con gruppi di lavoro poi divisi per singola azienda. Ogni gruppo poi ha sviluppato in maniera più autonoma e con coinvolgimento del maggior numero possibile di persone della struttura la valutazione dei vari ambiti. La fase quarta del progetto ha poi visto l'elaborazione dei dati della singola azienda con gli elementi prioritari sui quali le aziende hanno identificato le azioni da trattare e la fase finale del progetto, la quinta fase, invece ha preso tutti gli elementi di valutazione delle singole aziende per fare un report complessivo a livello di regione con l'identificazione delle azioni prioritarie sulle quali il livello regionale è opportuno a che le singole aziende si interessino. La progettabilità è partita a giugno del 2020 e si è conclusa come da piano a marzo del 2021. I risultati del progetto sono da allocare in due ambiti diversi. Il primo ambito è quello di valutazione dell'aderenza alle norme di buona preparazione, requisiti integrati anche da altri elementi specifici, quali per esempio le raccomandazioni SIF in merito agli allestimenti e l'altra dimensione invece riguarda la dimensione produttiva, quindi produzione e consumi. In merito al primo ambito, quindi della valutazione dell'aderenza alle norme di buona preparazione, oltre a una rappresentazione grafica anche complessiva di impatto immediato di quali sono gli ambiti sui quali a livello regionale è da intervenire o è utile intervenire, la valutazione complessiva rispetto a quei famosi ponteggi di cui dicevamo prima da 1 a 4, il ponteggio medio è risultato 3,4, con alcuni ambiti prioritari sui quali le singole aziende devono intervenire, ma soprattutto la cosa rilevante e interessante sono gli elementi comuni alle diverse aziende, elementi comuni che riguardano 11 dei 93 ambiti di interesse all'interno dei quali le tematiche rilevanti sono sicuramente gli aspetti microbiologici, le preparazioni delle attrezzature e anche l'attività della formazione. Alcuni di questi ambiti sono sicuramente utili anche per la valutazione o la rivalutazione degli standard tecnici che possono anche essere migliorati o affinati anche con la valutazione operativa e applicativa dei diversi contesti aziendali. L'altra dimensione delle valutazioni in termini invece di produzione e consumi e distribuzione quindi dei prodotti in termini delle varie realtà regionali ha avuto la valutazione delle singole aziende sanitarie in termini di dimensioni della produzione delle 4 UFA, quindi delle 4 unità dei farmaci antiblastici, oltre che anche dimensioni organizzative non solo della farmacia ma anche dei siti collegati ai consumi dei prodotti, quindi dei hospital, l'organizzazione delle dimensioni anche quindi di quelle strutture che non sono solo della produzione ma sono invece le strutture interessate all'utilizzo. Quindi la dimensione relativa alla produzione e quindi ai consumi è molto importante anche in merito al piano nazionale delle riprese dell'esilienza che spinge molto alla decentralizzazione delle cure e dei trattamenti. La parte delle possibili ricadute di questo progetto può essere contestualizzata in tre livelli, livello regionale, livello aziendale e livello extra regionale o interregionale. Sicuramente a livello aziendale i dati relative all'aderenza alle norme di buona preparazione consentono da un lato identificare le aree di miglioramento della singola azienda ma soprattutto identificare quegli elementi comuni a più aziende sui quali le varie aziende possono trattare, possono affrontare la tematica in maniera organizzata in modo tale da efficientare e ottimizzare gli impegni della singola organizzazione in un contesto più ampio. A livello aziendale naturalmente ogni azienda ha identificato le proprie aree di miglioramento, le aree di messa in sicurezza anche dei processi sia della produzione che anche lo sviluppo dei piani formativi e di addestramento del personale, oltre che chiaramente identificare quegli ambiti di potenziale sviluppo trasversale come abbiamo già anticipato che derivano dalla visione più ampia a livello di regione. A livello invece regionale o extra regionale il progetto Saga ha dimostrato di poter essere esteso anche in altri contesti regionali e anche con partnership di altre realtà scientifiche quali la società italiana di farmacia ospedaliera che è certamente interessata nella tematica puntuale degli allestimenti e anche dello sviluppo delle competenze del farmacista visto però in un sistema azienda perché questo progetto non è un progetto tanto del servizio farmaceutico, è un progetto di azienda perché le tematiche di miglioramento che possono emergere o sono emerse non possono essere trattate unicamente dal servizio di farmacia ma devono avere necessariamente una visione aziendale e talvolta anche interaziendale o regionali.